Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale sono Divix, oggi facciamo quelli che godono del disgrazie altrui dato che la Juventus ha perso contro il Napoli, staranno sicuramente godendo più a Napoli però anche noi a Milano non ci lamentiamo e anche noi interisti in tutta Italia non ci lamentiamo in attesa dell'Inter che domani giochi contro la Sampdoria, vedremo se ci prenderemo delle prese in giro per questo video in ogni caso dopo la partita di oggi mi ero già fatto la domanda dopo la cessione di Ronaldo però la voglio fare a voi e in questo video parlerò proprio della Juventus chiedendovi quanto è forte la Juventus quest'anno perché fino a un mese fa era considerata a tutti la favorita principale per vincere questo campionato oggi già sembra in crisi, ci sono tantissimi dubbi, quindi vi chiedo da 1 a 10 scrivetelo nei commenti sotto poi vi dirò la mia opinione, quanto è forte la Juventus da 1 a 10 prima di iniziare a dirvi cosa penso vi faccio vedere una bella pagina che è questa ed è la prima pagina di OneFootball che ovviamente è tutta dedicata alla vittoria del Napoli con la Juventus il Napoli vince e si porta più 8 sulla Juventus Scesni ancora un errore Allegri non si accorge nulla sul gol di Politano per mettere il coltello nella piaga la doppietta all'esordio di Cristiano Ronaldo con lo United che già manca tantissimi tifosi juventini ho visto anche i commenti sotto i post quindi è già un rimpianto Ronaldo sì, no, quanto sposterà in questo campionato? lo scopriamo voi come sempre avete il link di OneFootball in descrizione quindi ci cliccate sopra, vi scaricate l'applicazione ma adesso parliamo della Juventus e del campionato prima di tutto, a giugno la Juventus decide di ingaggiare Massimiliano Allegri tra l'altro un Massimiliano Allegri che ho visto molto tranquillo veramente, anche nelle conferenze in questi giorni sinceramente mi è piaciuto tanto molto tranquillo, molto sereno nessuna polemica nessuna polemica neanche per le tantissime assenze che hanno colpito la Juventus in questa partita molto tranquillo ha detto abbiamo la miglior formazione per affrontare il Napoli non è stato così, perché il Napoli ha fatto veramente una grandissima gara e per gran parte della partita la Juventus è stata dietro a difendere in ogni caso il discorso di Allegri lo tiro fuori perché l'avevo già tirato fuori per Simone Inzaghi nel senso, se tu devi smantellare la squadra ovviamente non vai a prendere un allenatore e gli dai 9 milioni di euro e mezzo perché Massimiliano Allegri è l'allenatore più pagato della Serie A pertanto tutti quanti hanno individuato la Juventus come favorita perché Allegri è quello che ha preso la Juventus e l'ha fatta vincere per tanti anni di fila è considerato a tutti quanti un super vincente un grandissimo allenatore, un grandissimo manager, un grandissimo gestore di campioni e addirittura pare che la Juventus abbia sacrificato Ronaldo proprio per Allegri perché crede in Allegri ecco se tu dai 9 milioni di euro all'allenatore 9 e mezzo, 10, non so quanti siano circa ma comunque una cifra vicina ai 10 milioni a un allenatore vuol dire che lo stai prendendo per vincere il campionato non lo stai prendendo per arrivare secondo non lo stai prendendo per arrivare terzo non lo stai prendendo per superare il giorno di Champions League lo stai prendendo per vincere il campionato esattamente come quando l'Inter ha preso Antonio Conte l'ho pagato 12 milioni di euro all'anno 10 il primo anno lo stava prendendo per vincere il campionato però quello che mi chiedo dopo la cessione di Ronaldo gli è stata messa una squadra lì per vincere il campionato o è stato preso Allegri per tamponare e poi non è stato fatto un mercato adeguato ovviamente la cessione di Ronaldo alla fine ha spostato tantissimo e soprattutto quanto sposta Ronaldo in un campionato cioè quanti gol fa? l'abbiamo visto oggi ha fatto due gol brutti cioè uno più brutto dell'altro non so se li avete visti uno su una respinta e un altro è stata bella l'azione poi lui ha tirato sempre sotto le gambe del portiere però Ronaldo segna sempre cioè Ronaldo segna sempre in una partita del genere avrebbe fatto un gol? probabilmente sì molto probabilmente sì guardando anche la media realizzativa nei tre anni della Juventus e quindi sicuramente sposta ecco sostituire Ronaldo con Kane è difficile poi oggi viene da ridere visto quello che è successo in campo visto quello che ha fatto Kane in campo che è qualcosa che io non ho mai visto su un campo da calcio parlavo con i miei amici e dicevo è impossibile che un giocatore su un calcio d'angolo colpisca la palla così rivolta verso la propria porta io non l'ho mai visto veramente ci sono stati degli autogol strani ma questo veramente è il più strano che abbia mai visto in vita mia però ho già sentito d'altra parte tanti fosi juventini dire ricordatevi che a Lega è già partito un anno male e poi ha recuperato ha vinto lo scudetto con nove punti di vantaggio mi ricordo neanche quanti erano sì però la Juventus all'epoca aveva un nucleo di giocatori fortissimi e soprattutto nel pieno della carriera io ho provato a analizzare quali sono i top player della Juventus oggi in questa rosa mi vengono in mente Delete mi viene in mente Quadrado mi viene in mente Dybala magari mi sono scordato qualcuno però parlando di top player ci possiamo ammettere Chiesa che magari quest'anno lo diventerà però magari non è ancora un top player a livello mondiale non mi viene in mente altro la differenza secondo me non la fanno i titolari perché secondo me la Juventus nei titolari è ancora una delle prime squadre in Italia la differenza la fanno le rotazioni io per tanti anni ho detto la Juventus ha tre squadre ha tre squadre quindi li sostituisci uno c'è l'altro si infortuna la riserva c'è la terza riserva che è forte come le altre due e ecco quest'anno non è così è quello che fa la differenza e oggi infatti si sono sentite le assenze tanto le assenze parecchio le assenze perché poi Allegri fa giocare De Sciglio fa giocare sempre Bernardeschi e questi giocatori non sono giocatori dello stesso valore di chi vanno a sostituire e quindi la Juventus nelle rotazioni perde perde tantissimo nelle rotazioni la Juventus quello è del punto debole e quello sicuramente è il punto debole dal punto di vista tecnico se vogliamo poi parlare di punti deboli secondo me c'è un altro punto debole ed è un punto debole dal punto di vista mentale perché questa squadra non è abituata a perdere e non è abituata a far male l'anno scorso secondo me è andata in difficoltà tante volte proprio per nervosismo una squadra abituata a vincere per nove anni con un nucleo di giocatori che è abituato a vincere per nove anni e anche con giocatori nuovi che arrivano in un contesto che è abituato a vincere sempre quando cominci a perdere qualche partita quando cominci a perdere ritmo a perdere punti sei nervoso e la Juventus è andata in Champions League perché il Napoli se l'è fatta addosso parliamoci chiaro pertanto una squadra che l'anno scorso è arrivata quinta che ha perso anche Ronaldo è difficile che faccia bene io non credo che Allegri riesca a compensare anche la perdita di Ronaldo non mi aspetto che la Juventus arrivi quinta ve lo dico dal mio punto di vista non mi aspetto che arrivi quinta perché secondo me negli undici titolari è ancora un'ottima squadra forte che se la può giocare con tutte le squadre in Serie A la Pari però dal punto di vista mentale queste sconfitte qua fanno male perché non sono abituati a perdere certe partite in quello spogliatoio non sono abituati a perdere certe partite e soprattutto non sono abituati a perdere in generale non sono abituati a perdere pertanto il lavoro di Allegri quest'anno sarà molto più difficile per ultimo per ultimo voglio menzionare una cosa che non sta dicendo nessuno e cioè la Juventus negli ultimi tre anni praticamente ha cambiato tre dirigenti ha cambiato tre direttori sportivi perché sono passati da Marotta a Paratici a Cherubini guardate che non è frequente questa cosa cioè ci sono squadre che hanno lo stesso direttore sportivo da vent'anni dieci anni è rarissimo che squadre cambino direttore sportivo per tre volte di fila quindi qualche cosa là dentro è successa e non ce la stanno raccontando tra l'altro successivamente a Marotta non mi sembra che le scelte di mercato siano state fatte in maniera super oculata ieri ho letto che la Juventus ha dato priorità a Kulusevski nonostante avesse impugno Haaland perché considerava Kulusevski già pronto mentre Haaland era un giocatore con un'incognita ecco il grande dirigente è quello che ti sa scegliere anche i grandi giocatori ci hanno fatto credere per anni che Marotta non sceglieva i giocatori che gli aveva sempre scelti paratici sinceramente per come è andata ci credo poco questa è la mia opinione il mio voto alla Juventus quest'anno da 1 a 10 ci penso ancora 5 minuti e ve lo scrivo sotto nei commenti voi fate la stessa cosa quindi andate nei commenti e mi scrivete da 1 a 10 secondo voi quanto è forte la Juventus quest'anno e se potrà competere per vincere il campionato dato che come ho detto all'inizio del video partiva fino a un mese fa come la grande favorita da tutti i grandi commentatori ex calciatori ed esperti di calcio adesso forse non lo è più per la perdita di Ronaldo e quindi dove può arrivare scrivetelo noi ci vediamo al prossimo video ovviamente che sarà domani dopo la partita Sampdoria-Inter domani alle 12 quindi vedrò la partita faccio il video se non siete iscritti al mio canale vi piace il calcio ma soprattutto se vi piace l'Inter iscrivetevi ciao ragazzi